Consegnata ufficialmente nelle mani del Ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia la bozza di intesa che riguarda i fondi comuni di confine, un documento che andrà prima di tutto all'attenzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in seguito verrà sottoposto alle province autonome di Trento e Bolzano e alle regioni Veneto e Lombardia. Il rinnovo dell'intesa è l'atto propedeutico per poi avviare la progettazione dei fondi che valgono per le annualità che vanno dal 2019 al 2023. Tante risorse che arriveranno nel territorio provinciale perché vengono stimate, al di là della trattativa politica che verrà fuori, circa 130 milioni di euro per i fondi a regia, come vengono definiti, gestite quindi sul livello sovracomunale, livello provinciale, e circa quasi 40 milioni di euro destinati ai 15 comuni di confine con la quota annuale da 500 mila euro. Spazio nella nuova intesa anche per una sfumatura particolarmente sentita nei territori di montagna. Un elemento politicamente molto importante, non più quindi solo spese di investimento, ma abbiamo aggiunto un comma 2 all'articolo 1, che è quello per le finalità del fondo, che introduce il concetto di garanzia e mantenimento dei servizi per cercare di invertire la tendenza allo spopolamento delle zone di montagna. È un concetto che è emerso in maniera importante negli stati generali della montagna della settimana scorsa, è un concetto su cui insieme al Ministero vogliamo lavorare, per mettere in campo politiche per facilitare la vita nelle nostre valli e fermare lo spopolamento.